Buongiorno a tutti amici dell'Olivo, stamattina passeggiata rapida in Oliveto, siamo praticamente alla fine di giugno, anzi forse oggi è proprio 30 giugno, la legazione è venuta, sta andando tutto per il meglio, purtroppo ho avuto dei problemi a fare i video perché, allora lì sotto c'è l'amico gatto, eccolo, allora occhiata rapida al suolo, qui c'è un albero, allora tanta roba, questa copertura, questa copertura pacciamatura, come possiamo vedere è tutto bello diciamo coperto il suolo, qui si stanno creando dei diciamo delle latifoglie sempre spinose, bene 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 per il momento, allora come vi dicevo purtroppo ho perso, cioè avevo perso, non ritrovavo in questi giorni lo stabilizzatore per fare i video e quindi in pratica sono due settimane che non riesco a fare dei video, anche se avrei voluto fare più video ma purtroppo è andata così, allora suolo top, io lo vedo che sta venendo sempre meglio, si sta riempiendo sempre di più il suolo, quindi di erba, erba ovviamente spontanea oppure anche seminata però nel mio caso è spontanea e quest'anno, vabbè, per quanto riguarda il suolo abbiamo questa parte dell'anno scorso, quindi questa vecchia che fa da copertura, quindi vediamocene un po', tende a trattenere un po' l'umidità e niente, quindi questa è la situazione, diciamo sta tutto procedendo al meglio, qui praticamente c'è la gramigna che è un'erba ovviamente molto forte e questa quantità di gramigna non l'ho, ecco l'amico gatto non è mai stata presente così tanto in questo suolo perché questo suolo è un suolo completamente argilloso, cioè molto argilloso e quindi non so perché infatti adesso come possiamo vedere ci sono certi punti in cui si vede molto di più il suolo, questo è anche scheletro, diciamo che piano piano penso che diciamo cercherò di sistemarlo, allora procediamo invece per capire com'è sta andando un po' l'annata, allora, alcune piante hanno i frutti, diciamo che stanno facendo i frutti, altre no, per esempio questa è abbastanza, è molto piena, già si vide, le olivine stanno veramente in forma, per esempio queste ne ha abbondanti, alcune sono andate molto bene, tipo per esempio queste, queste coratine stanno molto bene, come possiamo vedere queste hanno una produzione abbondante di quest'anno, cioè è ancora presto da dire che hanno una produzione abbondante, che faranno una produzione abbondante ma a quanto pare le olivine vicino ci sono, quindi al momento tanta roba, guardate qui che belle, che belle, ce ne sono, ce ne sono, questa è più piena del previsto, bene, per esempio questa ha bene, ovviamente non tutte sono così, questa per esempio è una pianta che è stata rimessa a dimora, perché era venuta a mancare inizialmente, quindi un po' di olivine ci sono, belle anche queste, queste diventeranno tipo un grappolo d'uva, ok, allora, quell'albero pochissima roba, quello grande, diciamo c'è sempre qualcosina, questi invece avevano tantissimi fiori e se non sbaglio ha anche tante olive, sì 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 questo è pieno, proprio lui che è pieno, cioè è pieno, ovviamente bisogna sempre vedere fino alla fine della campagna, ovviamente le olive sono un prodotto che rimane sulla pianta per tanto tempo, quindi insomma deve passare l'intera stagione, questo è strapieno, quest'albero, quest'anno, dopo non so quanti anni spesi a cercare di risistemarlo, cioè praticamente questo lato di destra che non ha mai, cioè ha fatto sempre pochissimi frutti, quest'anno è proprio strapieno, quindi sono veramente contento, ovviamente ho combattuto con quest'albero per abbassarlo, finalmente è uscita una bella parte di chioma qui, e sono veramente contento di come si è evoluto quest'albero, e come sono riuscito nel corso di 4, 5, 6 anni a sistemarlo, quindi tanta roba. Allora, poi qui abbiamo questo che è praticamente vuoto, perché questo l'anno scorso ha fatto un sacco di olive, guardate qui, queste non sono, diciamo non hanno allegato, comunque questo è proprio vuoto, cioè avrà tipo 20 kg di olive in totale, che ovviamente per le dimensioni di quest'albero, però guardate qui le foglie come stanno bene, stanno proprio in forma, le vedo proprio in perfetta forma, pochissimi attacchi di insetti, tutto top, quindi sicuramente ci possiamo aspettare un'ottima annata successiva a questa, guardate qui, che spettacolo di germogli, bellissimo colore, bellissime foglie e tutto, invece questa parte ha delle olive, perché quella è un'altra varietà selvatica, questo sta abbastanza bene, anche questo, abbastanza pieno, ha olive un po' dappertutto, quindi soprattutto nella parte più in alto, nella parte più in basso poco, ma nella parte più in alto, dato che ho sbagliato un po' a potarlo, cioè ho sbagliato in pratica nel momento in cui lo sono venuto a potare, non avevo l'attrezzo giusto e quindi praticamente mi è sfuggito troppo in alto, soprattutto in questa parte destra e lì ha fatto un sacco di olive. Allora, diamo un'occhiata qui a questo suolo, essendo qui nella parte più in basso, allora qui come possiamo vedere abbiamo una quantità di biomassa veramente importante, adesso al tocco mi sembra che sia umida, allora qui abbiamo vari insetti che camminano, parecchi insetti e vado ad annusarlo, allora l'odore è ottimo, l'odore di questo suolo è ottimo e anche, come possiamo vedere, è anche bagnato, è assurdo, infatti guardate qui come si presenta questo terreno, è anche bagnato, il che vuol dire che, diciamo che attualmente non sta piovendo non so da quanti giorni, è stata una stagione ovviamente molto piovosa quest'anno, ma non sta piovendo in pratica da almeno 20 giorni e con la pacciamatura naturale si sta tenendo ancora umido, è una cosa ottima, ottima che sia umido perché qui, diciamo, non avendo l'irrigazione, diciamo essendo un oliveto in asciutto, è indispensabile che si riesca un po' a bloccare l'acqua nel suolo. Bene, procediamo, questo così così, qualcosa ce l'ha, ma niente di spettacolare, però questo è un albero che mi produce tutti gli anni, quindi ci sta che quest'anno abbia una produzione minore rispetto agli anni scorsi. questo invece attualmente, penso sia probabilmente l'albero più pieno dell'oliveto, di questo oliveto, perché questo l'anno scorso ha avuto un'annata di scarica, e in pratica questo penso che quest'anno sarà quello, diciamo, con più olive. Mi ricordo il primo anno che l'ho raccolto, non ci credevo a quante olive stavo raccogliendo perché era veramente strapieno, era stato abbandonato per tanti anni quest'albero, adesso piano piano sto cercando di abbassarlo, di risistemarlo, ma è un albero veramente di grandi dimensioni, e quindi ha un potenziale produttivo veramente alto. Allora, vediamo questo, guardate qui, l'attacco della tignola, tignola nella sua generazione che va a mangiare le foglie, lei è stata molto colpita, questa pianta è stata molto colpita dalla tignola quest'anno, qualche oliva c'è, cioè questa ha abbastanza olive, un po' là per tutto, quindi bene, l'unica cosa ovviamente è il problema, che avrei dovuto fare tipo una copertura, ma non l'ho fatta, non l'ho fatta, vabbè lì albero deceduto, e poi lì dietro abbiamo alcuni alberi, ce n'è uno in particolare che è abbastanza pieno. Allora, quindi focus ultimamente ultimamente è sul suolo, fare in modo che il suolo sia praticamente sempre coperto, e quindi, allora qui in pratica, che cosa farò quest'anno per quanto riguarda il suolo, perché lo vedo, che con la pacciamatura, allora in pratica, che sto capendo? Sto capendo che il suolo se lo lasciamo così, e lo trinciamo, non si riesce neanche a coprire da sé, dipende ovviamente dal tipo di suolo, ma tendenzialmente da sé non si riesce a coprire, ormai sono due anni che sto facendo l'inerbimento permanente, e mi rendo conto che questo tipo di suolo non si riesce a coprire da solo, se lasciamo che cresca l'erba e la trinciamo, a meno che non ci vogliono tipo non so quanti anni, ma già dopo due anni, e non si riesce a coprire sempre nei soliti posti, significa che c'è qualcosa che non quadra, e qualcosa che non quadra significa che, probabilmente è proprio la mancanza di fertilità nel suolo, quindi per far diventare il suolo così, quindi coperto, e poi sopra la copertura far crescere un'erba bella verde, che bisogna fare? Bisogna andare a concimare, cioè con, eventualmente con azuto, bisogna andare a concime, perché in questo modo l'erba si sviluppa, si accresce, crea una biomassa più importante durante il periodo invernale, e così nel momento in cui andiamo a trinciare, creiamo maggiore biomassa, quindi materia organica sul suolo. E' indispensabile farlo, perché con il processo di, come dire, se noi lo lasciamo così a se stesso, è possibile che, ovviamente dipende sempre dal tipo di suolo, dalla piovosità, dalla fertilità, e così via, ma lasciandolo così non si verrà a coprire. E infatti qui, questa prova l'ho fatta proprio qui, in questo spazio, come si può vedere, già questo spazio visivamente è diverso rispetto a qui, si stanno creando delle erbe diverse, e come possiamo andare a vedere, qui c'è molta più biomassa, per quanto la qualità del suolo qui sia peggiore di giù, perché giù ovviamente cade sempre la parte superiore, ovviamente dalla parte di sopra, quindi a valle, di solito il suolo è migliore della cima. Come possiamo vedere qui, a seguito della concimazione, in pratica c'è stato invernale, al terreno, proprio al suolo, all'erba, cioè ho concimato l'erba per farla crescere, per far crescere l'erba, sembra stranissimo da dire, ma è così, e come possiamo vedere, qui il suolo, guardate qui, questo è un suolo bianco, cioè è veramente privo di sostanza organica, guardate qui, quanta erba si è riuscita a creare, e il suolo praticamente, per esempio qui non si è coperto, guardate qui, questo è un suolo che non si copre, cioè sono due anni che sta così, e non si è ancora coperto, ma come possiamo vedere, nella maggior parte dei punti qui, e come si è coperto molto bene, e quindi ecco anche qui, dove negli anni scorsi, non si veniva proprio a formare neanche l'erba, si sta iniziando appunto a creare, la paccia matura, per esempio qui, che non c'è neanche l'erba, qui praticamente andrebbe concimato, nel periodo invernale, perché altrimenti non mi cresce, neanche l'erba, sembra strano da dire, ma è proprio così, quindi bisogna in pratica andare a concimare, l'erba, per fare in modo che si crei, una quantità di sostanza organica, più elevata, in modo tale che nel momento in cui andiamo a trinciare, ci sia una trinciatura di una quantità di erba elevata, in modo tale che quell'erba poi rimanga sul suolo, ovviamente anche la qualità dell'erba, diciamo, dipende, è rilevante, per esempio se sono, ecco qui, qui abbiamo un suolo praticamente nudo, mentre qui come possiamo vedere, dove è stato, diciamo, dato questo concime, cambia proprio in un attimo il suolo, e qui infatti è tutto coperto, ovviamente le graminacee in un momento iniziale, secondo me sono le migliori, perché ovviamente hanno un rapporto carbonio-azzuto elevato, e quindi significa che questo è prevalentemente carbonio, è il carbonio per essere degradato e necessita di tempo, mentre se andessimo a trinciare per esempio queste erbe, che hanno le foglie larghe, oppure per esempio le leguminose, che hanno un basso rapporto tra carbonio e azuto, praticamente si volatilizzerebbero nel giro di 15-20 giorni, con l'aumentare delle temperature, non ci rimarrebbe più niente sul suolo, a coprire il suolo, e quindi è importante per esempio che qui, almeno nel periodo come si può vedere, qui c'è una popolazione di erbe, che è, se le venissi a trinciare oggi, tra 20 giorni, non ci sarebbe, cioè non rimarrebbe più sostanza organica sul suolo, a differenza per esempio della gramigna, per esempio questa si vede già che è una graminacea, che è questa, quando crescerà, diciamo diventerà come questi stili, e quindi andranno a portare al suolo, un tipo di, ecco per esempio questi, questi stecchi, che hanno un alto contenuto tra carbonio e azuto, cioè hanno tanto azuto, tanto carbonio e poco azuto, il che significa che è, subito dopo lo sfalcio, insomma rimane al suolo, allora qui in pratica invece abbiamo, la legna, ovviamente questa qui si mummifica, per esempio questa è un qualcosa che ha un elevatissimo rapporto, tra carbonio e azuto, vuol dire che ha tantissimo carbonio e pochissimo azuto, rispetto al carbonio e che quindi questo in pratica, se lo lasciamo così, rimarrà lì per sempre.